Il 13 aprile 2013, a partire dalle 17.30 presso il Teatro Butera Branciforti in Vicolo Teatro 1 a Bageria, il gruppo Art in Progress, presiduto dal giovane scultore flavese Giuseppe Morici, è lieto di presentare alla cittadinanza bagherese una nuova iniziativa culturale denominata L'Arte non ha confini. Previste 4 sfilate di abiti, una mostra spettacoli e divertimenti.